Musica Un buongiorno con Mattino 6, giovedì 31 ottobre, nella rassegna stampa di oggi parleremo di politica interna perché è stata approvata la mozione della Segre di una commissione contro il razzismo ma anche di economia con la fusione tra Friat Chrysler e la Peugeot Allora andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo nel mondo dalle prime pagine dei nostri quotidiani a partire da quelli locali in particolare andiamo sul centro in apertura alla cronaca, auto fuoristrada, amore bimbo, tragedia, rosciano il piccolo di tre anni è stato sbalzato dal finestrino e vediamo anche come riguardi anche l'Abruzzo questa notizia economica FCA-PSA, fusione sul modello della Seve e l'Abruzzo e a Pescara, Confindustria, scambi di servizi, giorno di incontri per 200 aziende e sequestra un ragazzino, rischia fino a 30 anni Pescarese rinchiuso in casa e pestato per 200 euro processo al via in corte d'assise nel taglio alto la politica nazionale manovra aiuti alle famiglie e blocco delle tasse sulla casa manca una notizia sportiva contratto col PSG Verratti a Parigi fino al 2024 guadagnerà 9 milioni l'anno prosegue la carriera del calciatore pescarese andiamo sulla prima pagina di Chieti Lanciano e Vasto Bancomat rubati altri 200 mila euro a Chieti svaliggiati anche gli sportelli Ubi sul corso e allo scalo e giallo nella fotonotizia vediamo il sindaco di Primio e il rettore dell'università d'annunzio l'università ritorna sul colle svolta per la città la cronaca a Chieti casa invasa dal fango paga il comune a Lanciano Villa Martelli un rapinatore ai domiciliari auto fuoristrada muore un bimbo l'abbiamo letto il piccolo aveva 3 anni è stato sbalzato dal finestrino la prima pagina di Terramo accusato di essere un soldato dell'Isis terrorismo rinvio a giudizio per un giovane che viveva nel Terramano nella fotonotizia la camera ardente dedicata a Roberto Fagnano l'ex direttore dell'ASL di Terramo Terramo dice addio a Fagnano il manager più amato ricordiamo era stato recentemente promosso al direttore dell'agenzia sanitaria regionale auto fuoristrada abbiamo visto la notizia di cronaca la prescrizione appalti energia accuse cadute per sorgi e cauti a Terramo cimitero visite nei padiglioni terremotati la prima pagina dell'Aquila Avezzano e Sulmona l'Aquila capoluogo legge bocciata la Corte Costituzionale un proclama senza copertura finanziaria nella fotonotizia il governatore Marsilio Zazzara un urbanista alla guida del parco della Maiella e a Carsoli le telecamere del Poliziotto per multare i vicini di casa una vicenda orrueliana possiamo dire Avezzano la cronaca schianto in auto il ristoratore perde la vita andiamo avanti sulla prima pagina del messaggero dedicata alla nostra regione sempre la notizia di cronaca in apertura auto si ribalta muore un bambino tragico incidente stradale ieri pomeriggio a Rosciano si salvano la madre e la sorellina Marsica schianto contro un parapetto un'altra vittima è il ristoratore Stefano De Gasperis un lupo solitario schierato con l'Isis giovane a giudizio e Sam Salabi vissuto per anni a colonnella audio sul web che inneggiavano alla Jihad e nella fotonotizia le gru sull'Aquila per la consulta non c'è la copertura finanziaria parliamo di l'Aquila a capoluogo la legge è stata bocciata ed eccoci sulla prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo che rende omaggio all'ex numero uno della sanità teramana dio commosso all'ex manager Asl il vescovo Leuzzi e il governatore Marsilio alla cerimonia per Roberto Fagnano oggi si terranno i funerali in Molise dove la terra di cui era originario il sindaco istituisce una ricorrenza che non esiste per parlare di sisma intanto nella fotonotizia vediamo Papa Francesco il Sacro Cuore rinnova l'invito per la visita del pontefice a Teramo lampioni a led un altro flop in centro storico ovviamente parliamo di Teramo consumano meno ma illuminano poco e non c'è sicurezza lasciamo per il momento i confini della nostra regione andiamo sui quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera manovra misure e tensioni Zingaretti scuote il PD la destra ha intercettato lo smarrimento degli italiani più tasse su filtri e cartine per chi fuma stangata sulle auto aziendali lite su fondi a radio radicale una questione che continua a far discutere intanto leggiamo le parole del leader del PD Zingaretti il partito va rifondato basta egoismi e conflitti probabilmente nel 2020 nascerà la nuova realtà di centrosinistra con un nuovo nome intanto andiamo nella foto notizia dove vediamo giovanotti il regalo speciale una canzone per don Rigoldi l'abbraccio dell'artista alla sacerdotica compiuto 80 anni intanto lo dicevamo prima la mozione segre il centrodestra si è astenuto e ora è bufera ma lasciamo il corriere per andare su Repubblica dove troviamo in apertura la notizia di stampo economico FCA Peugeot la fusione calda sia all'accordo dall'ex Fiat nasce un gruppo da 45 miliardi il quarto al mondo John Elkan presidente un raggio d'azione che va dalla Cina agli States intanto balzo in borsa più 9,5% e per il governo è un affare tra privati intanto la politica estera Libia un passo piccolo piccolo PD 5 Stelle il patto con Tripoli sui migranti verrà rinnovato ma ci saranno delle modifiche parliamo del patto che era stato stipulato dall'ex ministro Minniti che vediamo qui nella fotografia lo stesso patto che permise di bloccare gli sbarchi istituendo i veri e propri lager in Nord Africa segre il tradimento della destra commissione contro l'odio Forza Italia con Lega e Fratelli d'Italia rivolta interna il razzismo spiegato a Salvini e l'editoriale dello scrittore Henry De Luca andiamo avanti sul fatto quotidiano ma quanto mangiano questi leghisti nuovi forchettoni l'ironia della vignetta del fatto la sentenza che condanna i salviniani rixi e Bruzzone per spese private accollate alla regione le cene i pranzi del politico li paghi lui non lo stato nel taglio alto ergastolo subito una legge anti-boss e salva magistrati dopo le sentenze di Strasburgo e consulta sui permessi il fatto che ha sempre mantenuto una linea molto giustizialista la notizia economica la chiamano fusione ma la Fiat diventerà una colonia francese oggi l'annuncio del patto con la Peugeot andiamo avanti sul libero vogliono cacciare Di Maio i grillini non lo reggono più l'ormai ex leader di 5 Stelle per il libero addirittura già ex è isolato gli ex ministri e i gruppi parlamentari sono contro di lui e Beppe lo contraddice di continuo disperato sfida il guru e archivia l'intesa con il PD sul territorio nella fotonotizia il leader della Lega Matteo Salvini il successo di Salvini spiegato alle sue vittime più forte dopo l'addio a Conte e Soci intanto sulla questione di Radio Radicale si della vicepresidenza del consiglio e finanziamenti la democrazia si difende anche con i giornali il manifesto memoria corta nella fotonotizia vediamo appunto una delle tragiche immagini che vengono dalla Nord Africa due giorni dalla scadenza del memorandum con la Libia sul respingimento dei migranti il governo in alto mare il tavolo asilo viola i diritti umani deve essere stracciato il PD va rivisto ma di mai o frena l'assistenza alla guardia costiera va mantenuta contro il razzismo la destra si astiene il senato dà il via la commissione segre sull'odio razziale e l'antisemitismo Radio Radicale nuova gara manovra l'ite 5 stelle PD ma poi si è trovato comunque l'accordo per la legge di bilancio accordo sulla manovra ma non sulla coalizione e intanto Whirlpool la lotta paga l'azienda fa marcia indietro la fusione tra i due gruppi automobilistici via libera alla fusione quasi paritaria Brasile ombre su Bolsonaro nel caso di Marielle Franco e intanto in Iraq l'Iraq dei giovani non ha paura piazze piene un periodo di grandi mobilitazioni clima e privatizzazioni la California brucia Apocalypse Now il titolo appunto apocalittico del manifesto il messaggero le nuove tasse della manovra accordo nel governo su partite IVA famiglie e detrazioni ma nella bozza spuntano altri prelievi su auto aziendali concessionari autostradali energia fumo e vincite intanto la fotonotizia è dedicata alla Roma Roma travolgente in zona Champions Udinese KO per 4 a 0 Super Lazio anche immobile schianta il toro per lo stesso risultato intanto l'amico di Luca parlò con i killer prima del delitto parliamo del delitto di Roma i primi riscontri sui tabulati forse utilizzato anche il telefono di Anastasia la fidanzata della vittima intanto le visite in Vaticano gli incontri segreti della sindaca Raggi con Papa Francesco eccoci sul giornale Conte si prende anche gli immigrati della Merkel il monito che vorrebbe lanciare il giornale frontiera aperta Roma cede dalla Germania ne arriveranno 50 al mese caos manovra tra microtasse e ricatti incrociati matrimonio fatto tra Fiat e Peugeot Elkan presidente oggi è atteso l'annuncio ufficiale Commissione antirazzismo scontro sul rischio bavaglio il centrodestra si astiene Forza Italia si spacca la Commissione antirazzismo per il giornale appunto è un rischio per quanto riguarda la libera espressione Saviano Renzi e Boldrini veri leader dei falsi follower la classifica del consenso virtuale e intanto una curiosa notizia per quanto riguarda l'ambito sanitario niente anestesia operata al cuore con l'ipnosi l'intervento al Nigarda di Milano su una donna di 82 anni eccoci sul mattino di Napoli la Whirlpool ora non chiude ma noi lasceremo Napoli l'amministratore delegato Lamorgia pronti a supportare la riconversione fino a marzo il governo ora coinvolga anche Invitaglia PRS resta ancora un'ipotesi oggi lo sciopero dopo la riapertura delle trattative la fotonotizia dedicata al calcio Iorente abbattuto furia dell'Aurentis negato un clamoroso rigore e l'Atalanta pareggia vargogna il titolo del mattino e intanto casa bollette e fumo tutte le nuove tasse nella manovra PD 5 stelle quota 100 spunta un altro Max Italio aiuti alle famiglie partite IVA e affitti ed eccoci su il sole 24 ore il quotidiano economico finanziario e quindi leggiamo subito la notizia economica del giorno quella a cui è dedicata la fotonotizia parliamo ovviamente della fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot ok dai consigli di amministrazione Maxi cedola in arrivo da 5,5 miliardi per i soci del gruppo italiano in Europa sono 23 gli impianti produttivi il buco nero resta la Cina Tavares un team leader alla guida del colosso intanto più tasse sulle auto aziendali ai dipendenti triplica il reddito imputato a manager e lavoratori per l'uso promiscuo aumentano sia il fringe benefit sia la trattenuta in busta paga le nuove norme in vigore dal 2020 esclusioni solo per gli agenti di commercio acquisti di immobili tra privati niente aumento delle imposte accordo sulla manovra forfè salta il vincolo sui beni strumentali per 42 miliardi di debiti locali passaggio allo stato e ristrutturazione andiamo sulla stampa migranti e informazione tra PD e Di Maio e scontro tutto campo si del senato alla commissione segre anti odio il centro destra si astiene manovra scintilla tra alleati sul finanziamento al radio radicale infatti i 5 stelle da sempre erano contrari ai finanziamenti appunto alla radio dei radicali Fiat Chrysler e Peugeot oggi l'accordo quarto costruttore di auto al mondo apertura dell'Eliseo un segnale positivo per l'Europa e intanto nella fotonotizia svolta sui social Twitter è il primo a vietare gli spot politici dopo anche che Zuckerberg è stato messo per l'ennesima volta sotto accusa per quanto riguarda la diffusione delle fake news intanto leggiamo rivelazioni moro c'è il patto con i palestinesi dietro i reporter uccisi sanità l'incubo delle liste d'attesa 10 mesi per un'ecografia continuiamo la nostra rassegna stampa andiamo sul tempo il delitto della caffarella Luca lo strazio di un padre fate giustizia drammatica conferenza stampa di papasacchi si inghiozza ricordando l'ultimo bacio al figlio e vuole ancora credere alla verità di Anastasia 5 stelle in crisi alleanza col PD di Maio Frena il capo di 5 stelle niente intesa stabile con i democratici di Zingaretti la polemica a sinistra numeri sulle divise della polizia di stato in commissione una proposta di legge che scheda gli agenti come già succede in molti altri paesi europei Campidoglio la Lega prepara la calata su Roma Kermes Leghista con gli imprenditori e mozione anti Zingaretti intanto siamo sul tempo non possiamo non leggere la vignetta di Oscio la manovra si inventa la tassa su cartine e filtri dice che muovono tassa pure le cartine e vorrà di che se faremo e canne elettroniche l'ironia di Oscio sempre sul pezzo Lazio Torino 4 a 0 ancora immobile Udinese Roma 4 a 0 anche questo per le squadre romane un poker ma leggeremo tra poco le notizie sportive la verità salute con tanti fumo questi tassano tutto governo alla frutta solo liti e fisco pazzo ogni bozza nuove imposte buttano 3 miliardi di euro per incentivare i pagamenti digitali e aggiungono balzelli su auto e sigarette clamoroso allo studio tagli di detrazioni anche per le patologie gravi 24 milioni per radio radicale umiliano il Movimento 5 Stelle guerra totale con il PD e intanto nella fotonotizia il premier Conte c'è un buco da 400 milioni si erano dimenticati di pagare le missioni estere la lega a testa bassa vuole Giuseppe in aula su 5G spie e carige il premier è accerchiato Giuseppe ovviamente è il premier che preso così in giro dalla verità perché così era stato chiamato da Donald Trump il peso delle ideologie destra e sinistra ci sono ma è politica non fatene teologia la verità contro la commissione proposta dalla Segre grossi guai all'ospedale gestito dal Vaticano la clinica Columbus di Roma rischia la chiusura dopo un nuovo caso di sacre finanze allegre l'ONU smentisce anni di balle fuggono i ricchi e non dalle guerre report sui flussi verso l'Occidente la verità che si schiera con questi titoli sicuramente spregiudicati Elena la mamma tornata dall'inferno col sorriso si parla della Santarelli il suo libro sulla malattia del figlio Giacomo andiamo avanti sul secolo di Francesco Sorace Roma non è la cavia rispetto per la capitale la destra italiana non servono proclami per il futuro sindaco della città in primo piano come sempre la Meloni ancora insulti alla Meloni dopo Merlo ecco la Lucarelli Svezia non è il paradiso ma inferno dello stupro e vuoi il Passo Carraio serve il bollino antifascista le notizie di primo piano secondo il secolo ma passiamo su quello decimo nono tassa sui filtri del tabacco e condono prolungato la manovra è vecchio stile il ministro Gualtieri grazie al cuneo fiscale in busta paga 40 euro in più chiuso l'accordo politico sulle misure la rottamazione terra resta in vigore fino al 30 novembre intanto migranti informazione tra PD e Di Maio lo scontro si allarga sia la commissione contro il razzismo ma la destra non vota Toti vede Carfagna dialogo per formare un partito insieme infatti la Carfagna è stata una delle critiche più dure della stensione di Forza Italia appunto dalla votazione della commissione segre Fiat Chrysler Peugeot oggi l'accordo è il quarto gruppo al mondo un segnale all'Europa in difficoltà e la borsa premia l'operazione nella fotonotizia vediamo il calcio ci arriveremo tra poco adesso sull'avvenire il quotidiano di stampo cattolico nella giornata di Halloween titola patto col diavolo Roma verso la conferma dell'intesa coi libici Di Maio evoca alcuni correttivi le associazioni del tavolo asilo grave continuare a finanziare così i lager perché ricordiamolo sono veri e propri lager per migranti in Nord Africa fatti con la complicità del governo italiano il ministero dei fondi versati 5 miliardi nel decennio 280 milioni entro il 2020 per i guardi a coste Fisco come spianare le tre montagne di evasione il tema proposto dall'avvenire ma anche il post umanesimo se i motori girano con alcol e droga Fiat Chrysler punta su Peugeot l'altra sposa francese trattativa partita Whirlpool chiusura rinviata speranza basta tagli e sanità più accessibile il ministro sottolinea l'abolizione del super ticket 2 miliardi di fondi in più e adesso lo sport andiamo sulla gazzetta nella fotonotizia un cristiano Ronaldo esultante ci pensa lui Ronaldo spietato un bel genoa a lungo in 10 deve arrendersi nel finale espulso pure Rabiot Sarri fatti troppi errori Tiago Motta arbitro severo cristiano Ronaldo sempre decisivo si procura un rigore e lo segna al 96 la Juve torna prima in cima alla classifica pari avvelenato invece al San Paolo dove finisce per 2 a 2 Bergamaschi restano saldi al terzo posto l'Atalanta supera l'esame Napoli De Laurenti i sarbitri ora basta bufere in campo per un rigore non concesso nel finale a Llorente espulso Ancelotti il VAR doveva mettere il dubbio a Giacomelli Atalanta che comunque sta facendo un ottimo campionato Halloween a San Siro c'è la SPAL Milan Dolcetto Scherzetto Notte Brivido con Piatek e intanto Roma e Lazio Kesho Cairo Fiducia Mazzarri e in ritiro per il derby 4 gol Audinese Toro Fonseca a quarto Inter ecco tutti i segreti del Lula Park Lukaku e Lautaro Super meglio dei tandem da Scudetto ed eccoci sul Corriere dello Sport una foto notizia a centropagina simile a quella della Gazzetta senza fine Ronaldo a tempo scaduto la Juve batte il Genoa per 2-1 e torna davanti all'Inter Bianconeri in vantaggio con Bonucci poi il pareggio di Cuamè nella ripresa il Rosso-Blu in 10 resistono all'assedio ma Cristiano Ronaldo si procura e realizza il rigore della vittoria intanto Roma da 10 4-0 all'Udine i giallorossi ora sono quarti e i laziali quinti Ciro da 12 Toro tramortito Scossa Pioli più rabbia il Milan stasera con la Spal il tecnico pensa ad alcuni cambi in campo gente orgogliosa Berrettini fuori ma può sognare parliamo di tennis battuto a Parigi e comunque vicino al Masters dipende dai prossimi appuntamenti tutto sport irriducibile idea l'Atalanta rimonta due volte il Napoli e Blinda il terzo posto Fühler risponde a Maximovic Ilic a Milik Ancelotti Furioso reclama un rigore per il contatto fra Chiaire e Llorente subito prima del 2 a 2 e intanto che Roma stasera Milan Spal da brividi nella fotonotizia sempre Cristiano Ronaldo la Juve vince al 96 Ronaldo fino alla fine segna Bonucci pareggia Cunamè poi l'invenzione finale di Ronaldo che si procura un rigore firma il successo sul Genoa i bianconeri tornano in testa e anche l'umiliante 4 a 0 il Toro così va in B la Lazio passeggia sui resti Granata quinta sconfitta in 10 giornate media da retrocessione culo espulso niente derby Mazzarri appeso a un filo e per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto adesso le previsioni in meteo ma subito dopo torneremo in studio dove andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani abruzzesi a tra poco di nuovo in studio con mattino 6 giovedì 31 ottobre andiamo subito ad approfondire la cronaca locale sfogliando i quotidiani regionali andiamo sul centro doccia fredda per 430 lavoratori sciopero in regione e siti in Roma dei dipendenti durante l'incontro al ministero per il passaggio dell'issor a conad ovviamente parliamo della vertenza Oshan vediamo qui nella foto la manifestazione Fiat Chrysler Peugeot una fusione sul modello Seville confermati colloqui tra il gruppo italiano e quello francese già leati nella joint venture operativa dal 1981 ad Atessa nella Val di Sangro le reazioni del sindacato noi da 40 anni con i francesi la lezione della Val di Sangro ma la fabbrica si divide sui turni la FIM CISL contesta l'esclusione dalla trattativa per lo stop di sabato Aeroporto 5 Stelle accusa rilancio fermo al palo Marcozzi ancora bloccato in il bando da un milione e mezzo per nuove rotte l'assessore Febbo ribatte investiremo su Parigi Berlino Sicilia e Torino a settembre quasi 70 mila i passeggeri e intanto a Sulmona è stato presentato il capo del parco della Maiella e Zazzara un urbanista vince il braccialetto anticaldo al teatino amicone il premio cambiamenti della CNA secondo di Nino e terzi Agrusti e Giuliani andiamo su Pescara auto fuoristrada muore bimbo di tre anni incidente sulla via di casa la madre ha perso il controllo per l'asfalto bagnato il piccolo Kilian sbalzato fuori dal finestrino i parenti vivace una parlantina pazzesca lo strazio dei familiari Kilian non li davi tre anni e oggi le scuole di Turdi restano chiuse per lutto i genitori Rosanna ha perso anche l'altro piede ora si faccia giustizia parliamo dello schianto del bus Tuadi qualche settimana fa la studentessa ferita il 17 settembre a Caprara nell'incidente è stata operata di nuovo in ospedale e ha subito una seconda amputazione la famiglia ha nessun rancore ma i legali stanno lavorando rapisce un ragazzo per 200 euro e rischia fino a 30 anni di carcere un marocchino rinchiuso in casa e pestato un giovane pescarese la madre costretta a pagare l'imputato anche tentato di strozzare con la cintura dell'auto il patrigno della vittima Tiscanno avrebbe detto Oma salvezza con l'esercizio provvisorio da ieri produzione ferma dopo il pallimento lunedì manifestazione a Pescara della FIOM CGL e intanto il documento torna lunedì in consiglio sfratto a Fontanelle ma ci sono altri 30 inquilini abusivi pettinari i soldi stanziati dalla regione non bastano hanno trovato a casa una sfollata di rancitelli abiterà ora a Zanni 200 aziende in città scambi di servizi per crescere sui mercati il 29 novembre la laurum arriva connex una giornata di incontri faccia a faccia tra gli imprenditori abruzzesi e nazionali per far conoscere i propri prodotti e le opportunità previsti anche sei seminari andiamo ora sulla prima pagina di Montesilvano la cronaca che riguarda questa volta gli animali a quattro zampe cani legati e torturati giovani neguai la forestale ne salva due il terzo era morto da poco e seppellito vicino alla sua prigione ridotti alla fame e seviziati a segnalare i maltrattamenti al nucleo CITES è stata un'organizzazione internazionale uno dei pitbull è stato recuperato in una clinica veterinaria di città Sant'Angelo transarrestati forconi sgombero già notificato blitz in via Isonso intanto stroncato da un infarto al bancomat muore un 66enne ingombranti e rifiuti fuori orario fototrappoli incastrano 65 incivili a Montesilvano grazie alle immagini in pochi giorni i vigili urbani verbalizzano multe per 9100 euro spuntano una discarica in via Rimini e Materassi in via Finlandia Cilli denunciate li abbandoni andiamo avanti su il centro la biblioteca comunale supera i 2000 iscritti parliamo della biblioteca di Francavilla scuola bus inadatto il caso di Giulia sul tavolo di Conte scafa interrogazione di D'Alfonso a premere ministro sulla bimba disabile che non può viaggiare con i compagni andiamo a Chieti svuotati altri due bancomatti il bottino sale a 300 mila euro dopo il raid alla Trinità i ladri prendono di mira anche gli sportelli della Ubi sul corso e allo scalo la polizia indaga per risolvere il giallo c'è la stessa mano dietro i tre colpi adesso caccia al basista ai domiciliari un uomo del commando Lanciano accolta la richiesta della difesa di uno dei romeni sia gli arresti in casa ma con il braccialetto elettronico troppo e vongolare protesta la piccola pesca vasto scoppia il caso dei presunti sconfinamenti delle imbarcazioni che arriverebbero da fuori eccoci a Teramo il saluto di Teramo il manager più amato parliamo ovviamente di Fagnano camera ardente Almazzini strapiena di rappresentanti istituzionali e dipendenti della ASL commozione durante la messa la salma è tornata a campo basso oggi si terranno i funerali pista ciclabile il comune tira dritto l'assessore Giancola appena arriverà in una ossa della soprintendenza porteremo il progetto esecutivo in giunta e all'Aquila per la legge l'Aquila capoluogo ecco la bocciatura della consulta la corte costituzionale un proclama senza copertura finanziaria carente di soluzioni attendibili impugnato dal governo il testo approvato dal centro-sinistra da Forza Italia e dai 5 Stelle ad agosto del 2018 il documento conteneva anche un riferimento alla perdonanza celestiniana patrimonio abruzzese parliamo di una legge proposta innanzitutto per accelerare la ricostruzione ma allora vediamo bene di cosa si tratta nel nostro servizio la legge sull'Aquila capoluogo è incostituzionale a San Cirlo è stata la corte costituzionale che dunque ha bocciato in toto la norma varata dal Consiglio regionale abruzzese il 24 di agosto del 2018 secondo i giudici della consulta l'intero articolato della legge sulla ricostruzione dell'Aquila è incostituzionale perché esprime una mera ipotesi politica la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica seguendo il principio espresso nell'articolo 81 della Costituzione secondo il quale sono incostituzionali le leggi prive della necessaria copertura economico-finanziaria si tratta sottolinea l'ufficio stampa della consulta di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie a fronteggiare gli interventi nessi contenuti la consulta ha affermato che il principio della copertura trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza di evitare leggi proclama sul futuro del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori nella legge per l'Aquila capoluogo Regione Abruzzo aveva previsto per il bienio 2018-2020 785 mila euro di coperture corrispondenti allo 0,5% degli introiti dal bollo auto oltre all'Aquila la legge interessava i comuni di Barete Barisciano Cagnano Miterno Fossa Lucoli Ocre Pizzoli Scoppito Torni in parte e Poggio Picenze e andiamo ora sul messaggero perdonate per continuare con la cronaca locale premio cambiamenti vince il braccialetto che salva dai malanni l'accessorio in ceramica di Luca Amicone stabilizza la temperatura di chi lo indossa riconoscimento della CNA la start-up approda la finale del concorso a Roma sono queste le nuove frontiere della tecnologia Fira gestione illecita dei fondi scatta la prescrizione a Pescara DUP copiato dal comune di Bologna l'opposizione denuncia in aula la clamorosa scoperta botta e risposta con polemica tra Dincecco e la Sclocco l'ironia di Giampietro e di Iacovo a fondo 5 stelle contro l'università Alex Cova e il MIBE al posto dello SPAZ intanto appunto il campus a Viale Pindaro è una sola facoltà sul PP2 il PD parla di sicurezza garanzie dal prefetto e intanto una notizia di sanità lotta ai tumori donato dall'AIL un macchinario per i linfociti il Clinimax prodigi serve a manipolare le cellule CAR-T Cappuccilli un aiuto per l'ospedale e per la ricerca un nuovo macchinario questo per combattere i tumori del sangue andiamo a scoprire che cos'è nel nostro servizio un nuovo apparecchio che combatte i tumori del sangue si tratta di Clinimax Prodigy ed è ora operativo all'ospedale Santo Spirito di Pescara il macchinario è stato donato all'ASL dall'AIL l'associazione contro le leucemie linfomi e il mieloma Al centro del nostro interesse c'è il paziente ematologico questa è una struttura che diciamo nel tempo darà dei risultati speriamo positivi per cui si trattava di completare questo dipartimento di ematologia con questa innovativa e complessa attrezzatura che speriamo di appresto dei risultati Pescara è così fornita di una nuova arma nella battaglia contro i tumori ematologici l'innovazione apportata dal macchinario consiste nella manipolazione delle cellule è uno strumento del tutto innovativo e completamente automatizzato che permette di selezionare frazioni cellulari target mediante un sistema immunomagnetico e nello stesso tempo e in questo consiste appunto l'innovazione permette di incubarle in camere di incubazione per poter essere espanse e poter avere dei prodotti quindi molto purificati a seconda di quello che noi vogliamo ottenere questa è l'avanguardia sanitaria in Italia di questi apparecchi ne esistono solamente sette e saranno molti pazienti che ne potranno beneficiare è l'ennesimo intervento che facciamo per sviluppare un sistema di cure che da anni possediamo come azienda che stiamo perfezionando nella prospettiva di partecipare a un gruppo nazionale che dovrebbe porci all'avanguardia proprio nel paese rispetto a queste nuove tematiche terapeutiche e torniamo sul messaggero per la cronaca pescarese bimbo di tre anni perde la vita in un incidente l'auto guidata dalla madre è finita in un fosso forse a causa della pioggia il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a Montesilvano Pitbull lasciati morire un ventenne è stato denunciato appenne il comune fa cassa all'asta palazzo de Cesaris andiamo avanti nel capoluogo all'Aquila niente copertura è bocciata la legge per il capoluogo la consulta dichiara incostituzionale la norma varata dal Consiglio regionale a fine legislatura il verdetto impietoso basta con i proclami il fautore Petrucci ostacolata con modi Beceri per Natale Mercatini Ice Village a Monte Cristo ad Alessandro porterò il caso in Parlamento andiamo avanti con la nostra rassegna stampa andiamo a Chieti l'Ateneo è tornato sul colle Caputi lo dovevo alla città il rettore ricorda gli inizi della sua carriera e annuncia l'arrivo a breve dello studentato soddisfatto di primio inizia un percorso di innovazione si torna a respirare il futuro e intanto sulle strade autovelox niente multe per mancata revisione colpo al bancomat di Ubi scatta ora la caccia al basista e intanto è arrivata la sentenza madre 51enne condannata per stalking Sevel Tifa per la fusione con i francesi dirigenza dipendenti e sindacati guardano con fiducia la trattativa per un matrimonio tra Fiat Chrysler e il gruppo Peugeot l'intesa cancellerebbe i timori della produzione in Polonia fissata al 2023 il sindaco Borrelli prospettive più solide e gli ex dipendenti della Sam sperano in una acquisizione tavolo in regione con l'assessore Febbo e i sindacati avviati a contatti con tre aziende ma serve ancora tempo a Teramo Fagnano un infinito pellegrinaggio nella camera ardente medici infermieri politici colleghi sfilavano davanti alla bara messa del vescovo era una persona intellettualmente onesta cimitero visita ai padiglioni inagibili ma solo accompagnati dagli operatori intanto Papa Francesco incontra Don Matteo buono il pecorino che mi hai regalato ha detto il Papa buongustaio andiamo avanti ed è l'Isis giovane sotto processo un 23enne che viveva a colonnella gli investigatori lo ritengono un lupo solitario affiliato al terrorismo islamico avrebbe scaricato il rete audio che incitano la Jihad e sermoni finalizzati a scatenare odio contro l'Occidente è una notizia che è sintomo anche di quanto sia facile essere monitorati sul web a Giulia Nova Fratelli d'Italia Lanciotti coordinatore provinciale e prima di passare allo sport andiamo sulla città il quotidiano della provincia di Teramo un abruzzese da sempre vicino al territorio il governatore Marco Marsilio ha presentato ieri il nuovo presidente del parco nazionale Lucio Zazzara e Anas 10 milioni per la manutenzione delle strade statali abruzzesi la giunta regionale stanzia 3,8 milioni per la sicurezza sul lavoro per la riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro in 67 immobili in uso o di proprietà della regione Abruzzo bocciata la legge per l'Aquila capoluogo secondo la consulta la norma varata nel 2018 viola il principio della necessaria copertura finanziaria e intanto l'Aquila chiede chiarezza dalla sindaca Raggi per la questione dei terminal di Tiburtina dopo la lettera del sindaco romano a Marsilio che garantiva il terminal agli abruzzesi ma a proposito di viabilità dagli autobus agli aerei l'aeroporto Febbo punta a far arrivare un milione di passeggeri puntiamo ad aumentare il ventaglio delle offerte nei confronti di città importanti come Parigi Berlino e Torino ricostruzione d'Alberto convoca tutti i parlamentari oggi al Parco della Scienza l'incontro per definire gli emendamenti necessari al decreto sisma arrestato con oltre un chilo e mezzo di marijuana a Campli ennesimo colpo allo spaccio cittadino da parte dei carabinieri in borghese di Teramo lutto cittadino professionisti come lui vanno lodati in vita non rimpianti ieri Almazzini l'addio al manager Fagnano con il vescovo e il governatore oggi i funerali a Campobasso vediamo nelle foto le immagini della camera ardente Asfalti c'è speranza per le frazioni due imprese interessate al terreno edificabile del comune in Viale Bovio e Viale Cavour ma lasciamo per il momento la città torniamo sul centro per iniziare la nostra pagina sportiva D'Angelo io via Aterno e il mio stadio dei sogni il tecnico pescarese De Nelazzurri per me sarà un giorno speciale intanto il giro d'Italia parte da Chieti Delfino inaffidabile troppi alti e bassi numeri Zemaniani per Zauri dopo 10 giornate 17 retifatte e 16 incassate il Teramo si gode bombaggi io bomber inaspettato 5 gol in 11 gare per il centrocampista biancorosso trasformato esterno mi diverto di più a giocare vicino alla porta ora voglio arrivare in doppia cifra e allora ascoltiamo l'intervista al bomber del Teramo nel nostro servizio purtroppo non si sa mai quando riesci a trovare magari quella amalgama giusta tutte le situazioni giuste per portare a casa il risultato secondo me altre buone prestazioni le avevamo fatte anche prima ci mancava sempre quella piccola cosa da portare a casa i punti che poteva magari regalarci ancora qualche punto più in classifica e magari vederla ancora meglio di quello che è adesso ma altri gol subiti fanno diciamo rompono le scatole secondo me vanno a segnare una prestazione in maniera magari un po' negativa cosa che secondo me è tutt'altro che negativa che dice comunque hai subito tre gol la partita è sempre aperta se andiamo a vedere i tre gol sostanzialmente sì secondo me c'è un po' di tutto secondo me siamo anche molto giovani dietro nel senso abbiamo tutti i ragazzi 96 la squadra ci vuole il tempo ci vuole il tempo giusto per tutto al di là di qualche magari momento di saltazione dopo il gol stare un pochino più concentrati e subire qualcosina a meno sono venuto qua a fare il centrocampista no no bene ho fatto anche l'attaccante in passato quindi mi dicono se vuoi tutti puoi fare tutti i ruoli al centrocampo in su fortunatamente stai girando bene dicevano anche che ero scarso di testa all'inizio quindi ho già fatti due fortunatamente no sono contento al di là di tutto sono contento che adesso magari i miei gol stanno portando anche dei punti più a tutta la squadra quindi questo è l'importante secondo me al di là dei gol infatti da me in parte stiamo facendo abbiamo fatto un buon filotto in un'infrasettima ci ha parlato di nuovi punti ci ha fatto cambiare totalmente visione del campionato che stiamo affrontando ci siamo trovati da essere in zona play out proiettati che dici se vinciamo pure questa magari ci siamo lì quindi questo è quello che conta secondo me ma sono situazioni che dispiacciono secondo me più che altre perché comunque quando uno ha un infortunio così lungo ti tiene fuori magari è un ragazzo che scherzata tanto rispettore è molto simpatico è battuto ti manca più quello di là della spinta in più sì è una cosa che ti può compattare secondo me però più che altro avevamo molta voglia di magari dire sai non ci sei tu però noi stringiamo i denti uguali poi grazie a Dio ha sostituito Alberto che ha fatto anche abbastanza bene in queste partite quindi dipende come interpreto non è una cosa che secondo me ti può spingere a fare cose in più sono cose che più che altro si dicono noi abbiamo voluto dedicare la vittoria lui ci ha dato un messaggio prima della partita molto bello e questo magari ti può spingere in più non il suo infortunio ancora sport sul centro la Serie D Vastese ed Ottavio ora è ufficiale il Chieti cambia ancora campo oggi alle 18 la presentazione del nuovo direttore sportivo Biancorosso e il Lanciano va a K.O. e cade dal trono prima sconfitta a Casalinga della gestione dei vincenti Spermano della Torrese al quarto successo di Fila e il Castelnuovo brinda alla vetta nel campionato di eccellenza ma parliamo anche del Bacigalupo Penne che show e pareggio nel festival del gol finisce 3-3 la sfida d'alta classifica ma leggiamo ora le notizie sportive secondo il messaggero Altalena Pescara però Galano vola nella sconfitta a Castellammare di Stabia ha messo la firma un'altra volta sul tabellino i campani non hanno fatto grosse cose ci hanno impensierito solo su palle inattive Pavone quarto millennial a debuttare col Delfino il quarto appunto della generazione 2000 una rosa piuttosto giovane il giorno dopo non tutto è da rifare quella di Zauri ancora ben lungi dall'essere una squadra perfetta ma sicuramente è migliorata e più viva Lanciano K.O. torrese superstar una doppietta di De Angelis stand e i frentani in casa ha perso il primo posto Fabrizi due squilli casse il nuovo leader adesso e andiamo adesso sulla città di Teramo che ovviamente nelle pagine sportive titola sulla squadra di casa quella della serie C Bombaggi punta all'obiettivo doppia cifra lo abbiamo appena ascoltato il centrocampista mi piace stare vicino alla porta a Pordenone sapevo che avrebbe fatto bene e vediamo anche una notizia dal mondo degli sport da combattimento e delle arti marziali karate due atleti al Benzi in evidenza a Odense e anche il basket Bisson e il nuovo responsabile marketing della TASP uno dei più forti giocatori della pallacanestro italiana entra a far parte del sodalizio biancorosso e per questo giovedì il 31 ottobre la nostra rassegna stampa si conclude qui vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 con il TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio